Un gruppo di giovani con moto di grossa cilindrata, armati e senza scrupoli. Così i magistrati di Napoli descrivono la cosca su cui indagano dall'ottobre del 2011 dopo le rivelazioni di Pentiti su episodi criminali nel comune di Mondragone e in provincia di Caserta. Inchiesta condotta dai carabinieri che ha portato a nove misure coercitive con le accuse di associazione a delinquere di stampo mafioso, tentato omicidio, estorsione, traffico di droga, atti intimidatori, riciclaggi e traffico di armi. Tra i casi contestati il ferimento di due ragazzi a Mondragone che facevano i pusher di cocaina. L'episodio si inquadra in una faida interna al gruppo fermata dagli arresti eseguiti dai militari dell'arma. Ma la cosca era pronta anche a fare piaceri, ad esempio ferendo in un agguato un uomo arrecale per conto di un amico dei boss emergenti oppure il danneggiamento di un bar nei cui locali furono sparati anche colpi di pistola. Nel corso delle indagini effettuate anche con intercettazioni, sequestrate armi tra cui vicili mitragliatori. Al centro degli interessi del gruppo il controllo delle piazze di spaccio, particolarmente fiorenti perché hanno anche acquirenti che arrivavano dal Lazio e il business delle estorsioni. In qualche caso episodi a sfondo razzista come quando la cosca diede alle fiamme auto in uso ai giovani di nazionalità bulgara accusati ingiustamente di aver rubato droga all'organizzazione. Un'operazione importantissima dei carabinieri di Mondragone per dare ulteriore fiducia alla popolazione, alla popolazione locale. Un'operazione che ha portato in manette i vertici del clan locale, un clan organizzato, militarmente organizzato, un clan armato. Un clan all'interno del quale era scoppiata una vera e propria faida, una faida per il controllo delle piazze di spaccio di stupefacenti. Ogni piazza di spaccio, a seconda della sostanza spacciata, della sostanza ceduta, aveva un proprio responsabile che faceva capo al capo del clan. All'interno di questo gruppo, giovani, giovanissimi, hanno cercato con l'utilizzo di armi di cercare il monopolio dello spaccio di cocaina. Da qui veri e propri atti intimidatori, sfociati in un caso specifico, anche in un tentato omicidio. Due giovanissimi armati di pistola a bordo di una moto di grossa cilindrata hanno messo in fuga e poi colpito con questa pistola alla schiena un giovanissimo pusher, anche alle prime armi, che purtroppo è rimasto sulla sedia a rotelle. Un'operazione che vede anche i carabinieri impegnati nella lotta alle istruzioni registrati tali episodi e che ha portato in manette anche colui che per un periodo breve ha retto le file del clan.